Franco e Monica, prego. Ecco siamo arrivati al momento. Grazie Paolo, grazie a tutti. Allora, momento davvero importantissimo questo, sono contento che ci sia naturalmente anche Red a viverlo insieme a noi. Ci sono tante emozioni lì dietro le quinte, riaccogliamoli sul palco. Allora io li richiamerei tutti e tre con noi, Francesca Miccoli, Jessica Prevato e Luca Bretta, venite ragazzi. L'emozione è tanta, la giuria di qualità ha votato. Red ci fai un po' da padrino, augurando che abbiano una carriera splendida come la tua, anche se veramente sei un esempio incredibile. Sarà difficile ma glielo auguriamo. Glielo auguriamo assolutamente, anche perché vedere della gente, dei ragazzi, dei giovani che si avvicinano alla musica con passione, sono sicuramente delle persone che cresceranno un pochino meglio, perché la musica non ha mai fatto male a nessuno. E vederli credere nella musica è bellissimo. Bene, con questo augurio così speciale da una persona così speciale come Red, siamo pronti a dire il terzo classificato. Si aggiudica il terzo posto per quanto riguarda il casting di Festival Show, Luca Bretta. Fai un passo avanti Luca, le nostre hostess lo premiano. Riceve il premio dei maestri vetrai Parise Vetro di Marostica. Grazie a Luca Bretta, resta naturalmente con noi. Allora ragazze, venite qua al centro, dai. Allora abbiamo deciso di dire direttamente il secondo posto, anche se poi si capirà ovviamente chi è il primo, però è giusto fare una premiazione, no? Sì, a te l'onore Monica. Al secondo posto questa sera c'è Jessica Prevato. E quindi riceve naturalmente... Aspetta che la premiamo. Complimenti Jessica. Perfetto, accomodati vicino a Luca così vi mettiamo in ordine. Riceve insieme al premio anche un videoclip di Wiz Multimedia e naturalmente anche un CD singolo, oltre all'applauso di questo pubblico per aver vinto Festival Show Francesca Miccoli! Adesso puoi piangere quanto vuoi, che piangi da un mese... Lei ogni volta che sale sul palco piange prima di cantare dopo che ha cantato. Red? Beh, un commento, cosa posso dire? Sei giovane, sei bella e io t'ho visto là dietro nel monitor perché hai cantato poco prima di me, sei anche brava, hai tutto, sei sensibile, fateli un applauso di quelli veri perché sta tremando. È meraviglioso, è un anno di lavoro questo per arrivare poi a questa vittoria straordinaria, bravissimi tutti e tre, tutti e tre eccezionali, proprio lo scarto è stato di pochissimo. Noi ringraziamo tantissimo Red per essere stato con noi, è sempre bellissimo averti in radio e averti sul nostro palco, grazie di cuore. Io voglio ringraziare voi, voi, voi della radio e il coraggio perché ragazzi voi qui stasera siete in un posto magnifico, in una serata incredibile, ma Radio Birichina, Radio Bella Monella, Roberto Zanella, Paolo Baruzzo e tutto, Franco, Stefano, tutti quanti, credetemi ci mettono l'anima per fare sta cosa e al giorno d'oggi fare una cosa così non è facile, per cui sono loro quelli che meritano l'applauso più grande. Io vi saluto, ciao! Grazie Alcanziano, grazie a tutti voi, noi torniamo in diretta, buona serata al Festival Show, complimenti ai nostri giovani bravissimi, a più tardi! Grazie a tutti, ciao!